Ciao Raffaele! Ciao! Sacro blog! Sacro blog! Sacro blog! Buon Natale! Buon Natale e un bacione! Che fai per Natale tu? Mangiamo pesante! Per Capodanno? Penso di sicuro! Che si può regalo? Vabbè! L'ha fidanzata! L'ha fidanzata che veniva il 24, ma il telefono mi ha detto, vabbè, che vuoi fare? Vabbè, quindi allora, ci fai gli auguri di nuovo? A parte di cosa? Di Giorgia? Ah, devi fai gli auguri a sacro blog! Ah, sacro a cuore! No, sacro a cuore, sacro blog! Ok, ok! Allora, Raffaele, guarda! Fa freddo, eh! Guarda Natale!